Marco Minghetti presenta Intelligenza Collaborativa Grazie, grazie, grazie a tutti. Innanzitutto buon pomeriggio alle signore e signori presenti e grazie a Cisco per avermi invitato qui oggi. Anche se, devo dire, mi ha dato un compito che non è esattamente facilissimo perché parlare dopo il maestro Mazza dovendo anticipare il gran maestro David Bevilacqua capite bene che mi sento un po' come il classico vaso di coccio fra i due vasi di ferro, non solo. Ma il compito un po' che cercherò di esaurire nella mezz'ora che ho a disposizione è quello di cercare di fare da ponte fra le metafore, le suggestioni, le emozioni, le indicazioni anche tecniche che ci ha dato il maestro Mazza ispirandoci al mondo della musica con la presentazione finale di David che cercherà invece di dirci quali sono i nuovi stili di leadership, o meglio, come si trasforma lo stile di leadership nelle nuove organizzazioni che stanno passando dai vecchi modelli gerarchico-burocratici ai nuovi modelli che sono appunto quelli della social organization di cui parlerò nel mio intervento. quindi il tentativo è di fare questo link cercando di non uscirne troppo frantumato, troppo a pezzi. Allora partiamo subito perché ci sono tante cose da dire e chiederei alla regia di partire con un primo video brevissimo che mi serve però per introdurre il discorso che vorrei farvi. Allora partiamo subito. Grazie ecco non so chi di voi ha conosciuto o conosceva già magari questo video che è stato molto popolare in internet, è stato postato circa un anno e mezzo fa e ha determinato tantissime discussioni in rete per i motivi che sono credo facilmente intuibili, no? Si vede un bacio lesbico, si vede i manifestanti di Occupy Wall Street che lanciano anche pietre, insomma una serie di situazioni che si potrebbe pensare ma qui è qualche hacker della rete che ha voluto realizzare questo video così provocatorio, forse qualche intellettuale, non so, Bertolucci che ha voluto stigmatizzare. In realtà il video, come avete visto, è stato realizzato da una banca, da una banca danese, la Dansk Bank, che ha lanciato la sua nuova visione, che dice una nuova normalità richiede nuovi standard. Quindi cosa ci stanno dicendo i signori banchieri di Dansk Bank? Ci stanno dicendo guardate signori che forse non ve ne siete accorti, ma come del resto nella mattinata di oggi ci hanno detto praticamente tutti gli speaker, il mondo sta cambiando, sta cambiando velocemente e sta cambiando non solo negli aspetti tecnologici, ma soprattutto nei modelli mentali, nei modelli cognitivi, negli stili di vita, nei valori. Dopodiché è chiaro che non era certo intenzione né mia né dei signori di Dansk Bank, come dire, fare un elogio dei comportamenti che lì sono stati visualizzati. Ognuno ovviamente nel suo fuori interiore può pensare ciò che ritiene più opportuno, circa i matrimoni omosessuali o le rivoluzioni arabe. Resta il fatto che, ci dicono, ripeto, dei signori che fanno business, dei banchieri, il mondo sta cambiando, il che significa che i consumatori stanno cambiando, il che significa che i comportamenti d'acquisto stanno cambiando. Se non ne prendiamo conto, se non ne teniamo atto, semplicemente perdiamo delle fette di mercato, perdiamo dei consumatori, perdiamo business. Ora, se questo è vero, come credo sia vero, qual è uno dei motori più potenti che sta generando questi cambiamenti? In realtà sono rapidissimi, questo stesso video è interessante per un altro dettaglio che non vi sarà sfuggito. In ben due frammenti si vedeva Pistorius, che all'epoca del video era una specie di eroe dello sport, la persona che ha dei problemi di disabilità che diventa un grande campione. Oggi Pistorius è un criminale, un anno dopo, un criminale internazionale. E in qualche modo anche questo ci dice quanto rapidamente stanno cambiando le cose. Oggi sei un eroe, domani sei un criminale. Ora, qual è il motore, dicevo, che determina, fra i tanti, ma qual è forse il più potente motore che determina questi cambiamenti, ripeto, nei modelli mentali, nei modelli culturali, quindi negli atteggiamenti, nei comportamenti e quindi nell'abitudine d'acquisto, è esattamente internet, il web 2.0 e in particolare, questa è la prima parola che vi chiedo di memorizzare perché sarà importante nello sviluppo del mio discorso, le community che si aggregano intorno ai social network, quelle community per cui con un flash mob si richiama in una certa piazza un certo numero di persone che poi scatenano la primavera araba. Per esempio nel numero recente, l'ultimo numero del Corriere delle Comunicazioni, ci dice guardate che, cari signori, adesso ci saranno a brevissimo le elezioni europee e ci dicono la sfida è social, sostenendo in quest'articolo che l'ago della bilancia sarà effettuato da coloro che saranno più capaci di usare social network come Twitter, come Facebook, come YouTube. Del resto abbiamo illustri esempi, sapete perfettamente che Barack Obama ha vinto nel 2008 la corsa per le presidenziali americane proprio grazie all'utilizzo che ha saputo fare dei social network e del resto in casa nostra noi sappiamo che ci sono personaggi che fino a tre anni fa gestivano un blog, oggi sono a capo del secondo partito politico italiano, anzi leggevo oggi sul Corriere della Sera addirittura il primo, se andiamo nella fascia giovanile. Questo senza, ripeto, né voler lodare né voler censire, ma prendendo atto di questo aspetto e cioè che è attraverso i social network, attraverso internet che oggi si creano i grandi mutamenti, i grandi cambiamenti. E questo da che cosa dipende? Dipende dal fatto che in una platea tecnologica come questa, non mi soffermo troppo su questo concetto perché credo che sia assolutamente pleonastico perché oggi tutti noi siamo assolutamente pervasi nella nostra vita personale, oltre che professionale, dall'utilizzo dei social network. C'è fra l'altro proprio nell'ultimo numero della lettura del Corriere della Sera, questa interessante intervista a Frederick Marte, l'autore di questo libro Smart, che fra l'altro parla di Smart City, quindi un tema credo molto caro a voi di Cisco, dove sottolinea ancora una volta questo. Guardate che quando parliamo della potenza, dello sviluppo dei social network, non parliamo solo di Facebook, dell'oltre miliardo di persone che sono iscritti a Facebook, perché esistono, come sappiamo, interi continenti in cui non c'è Facebook, ma ci sono degli analoghi di Facebook. Quindi in realtà siamo tutti su Facebook, siamo tutti sui social network. Poi ogni tanto viene fuori qualcuno che dice sì, ma ho letto sul giornale che su Facebook ci sono 19 profili fake, 19 milioni, scusate, di profili fake, e a me sembrano pochi 19 milioni, su un miliardo e 300 milioni, forse sono molti di più, ma anche se fossero 100, ragazzi, tutti gli altri sono lì, tutti gli altri siamo, siamo lì. E voglio dire i dati, qui potremmo andare a raccontarne tantissimi, ma ripeto, per un pubblico come il vostro vado rapidamente su questi punti che credo siano abbastanza acclarati, ma proprio due giorni fa mi sono imbattuto in una infografica, questa che è apparsa appunto su internet, che è veramente interessante, ci dice che cosa succede su internet ogni minuto. E succedono delle cose incredibili, tipo ogni minuto vengono pubblicate 72 ore di video su YouTube, ogni minuto 72 ore di video su YouTube, sono pubblicati quasi 2 milioni e mezzo di post su Facebook, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, prendiamo atto che oggi il mondo, tutti noi, viviamo gran parte della nostra vita sui social network e in particolare questo determina questi grandi mutamenti epocali, grazie a che cosa? Grazie al fatto che questi social network sono in grado di sviluppare delle community di interesse che hanno questa particolare caratteristica, quello di sviluppare delle interazioni conversazionali, sviluppano delle conversazioni.